Io penso che sia una questione di dignità, nel senso che da un certo punto, quando sei oggetto di attenzioni che vanno oltre una certa soglia, che non desideri, che vedi che in qualche modo ti offendono, ti fanno del male, ad un certo punto bisogna dire basta. E di rivolgersi a chi ti può dare una mano che è lo Stato. Per Stato intendo le forze dell'ordine, intendo la magistratura. Poi è anche vero che devi trovare delle persone all'interno di queste realtà, di questi pezzi dello Stato, che capiscano, che abbiano la sensibilità di capire. In dieci anni ne ha viste tante da sindaco Elisa Venturini, compreso un alluvione che ha messo in ginocchio a metà paese, tolto la casa per mesi a molti dei suoi abitanti. Una delle battaglie più dure da donna l'ha vinta rivolgendosi alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi la polizia postale ha arrestato uno stalker cinquantenne residente a Monastier che per tre anni non le ha dato pace. Lettere, regali recapitati in comune addirittura a casa sua, messaggi di contenuto compromettente, foto, un incubo. Nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato anche una pistola con la matricola a brasa. All'inizio le attenzioni sono state sottovalutate, un sindaco ci ha quasi abituato. Dopo qualche tempo è stato troppo, prima la denuncia, poi la collaborazione della procura e di una donna della polizia postale che ha dato la vera svolta all'indagine fino all'epilogo, da una parte le istituzioni, dall'altra la vittima che deve fare la sua parte, racconta Elisa Venturini. Per due giorni l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, adesso la giustizia farà il soccorso alle donne, un messaggio chiaro. Il primo secondo me valore fondamentale è la libertà, quindi una deve essere libera di fare la sua vita e di non essere condizionata da altri. e bisogna perseguire questo con determinazione. Cosa si aspetta dalla giustizia? Perché adesso c'è la seconda fase, c'è il processo. Io mi aspetto solo di non essere più oggetto di attenzioni, punto. Per me questa vicenda è chiusa e voglio che finisca proprio così. Grazie a tutti. Grazie.